Ciao, sono Enrico del Frantorio il Cassone Abbada e ho fatto questo video per augurarti una stagione estiva piena di successi e soddisfazioni. E come ogni anno qui, da questo edificio che vedi alle mie spalle, da questo viale, organizziamo le visite didattiche per conoscere come si producono le extravergine di oliva di alta qualità e le relative degustazioni con olio, vino e altre toscanerie. Per cui ti invito ad invitare i tuoi ospiti a partecipare alle nostre visite in Frantorio che sono completamente gratuite e senza preavviso. Sì, senza preavviso perché siamo aperti tutti i giorni, 7 giorni su 7, dalle 10 la mattina alle 22, orario continuato. E portiamo i tuoi ospiti qui dentro a visitare i macchinari, a conoscere diversi processi di trasformazione e le storie delle famiglie che portano le olive qui in Frantorio e che raccontano le loro favole, le loro storie legate a questa trasformazione, a questa alchimia. Subito dopo la visita in Frantorio invitiamo i tuoi ospiti a visitare il vecchio mulino che si trova adiacente all'immobile del Frantorio, che è un mulino dove si trovano macchinari che fanno parte dell'archeologia artigianale e industriale della Toscana. Qui dentro, in questa sala, facciamo le degustazioni, quindi facciamo assaggiare l'olio, il pane toscano, i migliori vini della Toscana e tutto questo gratuitamente e senza preavviso. Per cui siamo a tua disposizione dalle 10 la mattina alle 22 la sera. Se il giorno è caldo, i tuoi ospiti vogliono andare al mare, vanno al mare. Se vogliono venire qua da noi e fare una visita notturna, siamo a piena disposizione. Quindi ti auguro una buona estate, ti auguro un'estate ricca di lavoro e di soddisfazioni. Ti saluto qui dal Frantorio, il Cassone di Vada. Ti aspetto, ciao!